Offcar The Great Cooking, azienda familiare fondata nel 1920 in provincia di Padova, da quattro generazioni propone soluzioni per la ristorazione professionale che si contraddistinguono per funzionalità, affidabilità e prestazioni. Con il 60% del suo fatturato all'estero e circa 600 prodotti a catalogo, l'azienda si rivolge a ristoranti di alto livello, consulenti, catene e collettività, con una gamma completa e innovativa. A Ost 2019 ha stupito il pubblico con una serie di prodotti davvero innovativi. Offcar è orgogliosa e soddisfatta per presentare tre grandissime innovazioni di prodotto. Un esempio è la nostra nuovissima friggitrice con filtraggio dell'olio incorporato, con un sistema automatizzato di sollevamento dei cestini, in accordo con 20 ricette completamente configurabili, con tempo e temperatura. Un sistema intelligente che garantisce lo stesso prodotto cottura dopo cottura, anche con diverse quantità di prodotto inserito all'interno dei cestini. Il nostro Intelligent Cooking System. Da remoto siamo in grado di controllare, gestire e verificare la nostra friggitrice. Due versioni, versione elettrica e versione a gas. Presentiamo inoltre un piano unico igienico, la nostra nuova Linda. È un blocco cottura dove tutte le apparecchiature inserite sono delle apparecchiature a gas, quindi siamo in grado di rispondere alle richieste del mercato di prodotti performanti, pur avendole installate all'interno di un piano unico. Il nostro sistema quindi ci permette, anche dopo la consegna, di poter cambiare e sostituire gli elementi sul piano cottura con la massima flessibilità, a seconda delle esigenze del cliente. Ofcar è orgogliosa e felice di presentare inoltre il nuovo Pasta Corner. Un sistema completamente pensato e disegnato per una ristorazione veloce, affidabile e controllata. Utilizziamo un sistema di riscaldamento ad elevata efficienza come delle resistenze esterne alla vasca di cottura, proprio per garantire una qualità del prodotto cotto all'interno dell'acqua ai massimi livelli. Un sistema automatizzato di cestelli permette inoltre di controllare tempi differenti, tipi differenti di cotture con lo stesso metodo. Un sistema completamente touch screen, senza pulsanti, waterproof XP4 garantirà all'utilizzatore la tranquillità nell'utilizzo, una facilità di pulizia e anche a voi un rendimento ai massimi livelli.